E' stato dedicato a Palmina Martinelli il parco giochi adiacente a Via della Repubblica, nel Rione Montrone di Adelfia. Colpito dalla PIS teatrale del regista Giovanni Gentile, magistramente interpretato dall'attrice barese Barbara Grilli, il sindaco della cittadina alle porte di Bari, Giuseppe Cosola, ha voluto omaggiare il sacrificio della 14enne che negli anni 80 con coraggio si oppose alle logiche dello sfruttamento e che solo dopo molti anni sta ottenendo giustizia.